Buongiorno a tutti e benvenuti come di consueto al Tg regionale e metro regionale Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito le notizie del Tg regionale, soprattutto dal nostro regione Friuli Venezia Giulia, dal nord-est dell'Italia. Esami di riparazione per 2.500 studenti degli istituti superiori friulani, vacanze terminate per gli allievi con giudizio sospeso. Al Copernico e alla De Ganotti hanno già concluso l'ultimo El Sello. Uova con insetticida, via i controlli anche in Friuli, campioni contaminate salette a quota 8, il farmacologico bassi dice rischi per la salute. Estorsione in 5 anni, in Friuli ciasciuti reati aumentano il 125%. Il Festival dei Cuori col via di Gemona, folla anche a Tarcento, ma il palco in centro fa discutere. Boldi dice, penso alla sede unica, anche per questione di fondi. Altre notizie, Schioppetto e Rodaro, vendemmia al via, le prime azioni di Coglio e Colli orientali hanno cominciato la raccolta, ottima annata per i rossi. A Cerviniano del Friuli, addio a Deborah, mancano i documenti. La famiglia attende nulla osta. I funerali della giovane morta in Grecia saranno celebrati la prossima settimana. A Sutrio, dopo il fallimento della Bodino Stracres, ora la nuova azienda parte con 20 dipendenti. L'inaugurazione è fissata per il 9 settembre. Bodino, il colosso di Torino, amplierà la produzione. La maestranze è sotto state reclutate sul territorio. Nei programmi c'è anche la realizzazione di mobili. Fidenzati uccisi a Pordenone, cari, evade dai ciumiciliari. Ora ricercato in tutta la regione. A Pordenone, nomade scappato dal Grodi Aviano nel 2015, era stato arrestato in aprile nel Padovano. Ha testimoniato il processo su Teresa e Grifone, afferrando di essere stato ingaggiato per compiere il delitto. Terremoto di Ischia. Le testimoniate dei friulani in campagna. Le prenotazioni cancellate dopo la sosta. Il simbologo dice che in friuli non avrebbe causato alcun danno. L'isola Campana è stata colpita con un terremoto di magnitudo 4.0, presenti a Ischia più di 250.000 persone, tra cui una famiglia di Udine e un di Pordenonese. Un terremoto che ha devastato casi strutture pubbliche, sebbene la soglia di pericolo, spiegando gli esperti, parta dalla magnitudo 4.5. Diversi i terremoti che hanno superato negli ultimi vent'anni anche nella nostra regione. Altra notizia, Udine con la moto contro il muro grave. Un 31enne ha perso il controllo della sua due ruote in via Pozzuolo di Udine e in pronino in riservata alla Santa Misericordia di Udine. Dentro la MSC Sead, la nave Grattacielo del Mare dove lavorano ben in 3.000. Freneti con l'allestimento delle navi alla Fincantè di Muffalcone. Sabato le prove in mare. A decembre viaggio inaugurale a Miami. Il programma del famosissimo di Rai 2 e dei Voyager dice che Giulietta e Romeo erano Lucina e Luigi. La storia ha origini friulane. Il documentario Rai ha ricostruito la storia di Savornian. William Shakespeare non è stato il primo a raccontare il mito. La tragica vicenda dei due amanti compare in molte opere letterarie italiane. I cugini amanti sono da Trasagis, Aris, Brazzacco, Osoppo e in piazza Venereo di Udine. Alignano già espulso torna in Italia. Arrestato mentre prende il sole. Ventenne albanese è stato condannato per furti. Se ne stava tranquillo sotto l'ombrellone. Avvilesse spettacolare operazione per la posa dei cavi di un elettrodotto. I lavori in prossimità del ponte sull'Isonzo. Al lavoro tecnici specializzati. Operatori di auto-viene venete. Polizia stradale. E un elicottero. Andiamo a vedere come di consueto il tempo che oggi possiamo dire che è molto soleggiato in tutta la regione. E le massime sarebbero su 30-31 gradi in regione. Il tempo per domani, venerdì 25 agosto. Superare costa, cielo, seleno, poco nuvoloso. Con venti a regime di brezza. Sulla zona montana, poco nuvoloso al mattino. Probabilmente variabile al pomeriggio. Con possibili rovessi e qualche locale temporale. Spezia sui settori più interni della Carnia. A confine con il cadore. Le temperature saranno minime da 15-18 gradi. Le massime 29 a 32 gradi. In costo le minime da 21-24 gradi. Le massime 26 a 29 gradi. I mille metri 19 gradi. Duemila metri 13 gradi la media. Il tempo per sabato, 26 agosto. Parliamo già quasi del weekend. Ceno seleno o poco nuvoloso. Con venti a regime di brezza. E sarà un po' più caldo dei giorni precedenti. Nel pomeriggio sui monti. Sarà possibile la proclamazione di maggiore nuvolosità. Ma con bassa probabilità di locali rovesci. Le temperature saranno minime. In pianura da 15-18 gradi. Le massime da 30 a 33 gradi. In costo a minime da 22 a 24 gradi. Le massime 27 a 30 gradi. I mille metri 20 gradi. Duemila metri 16 gradi la media. Il tempo per domenica. La tendenza si prevederà. Che il cielo sarà sereno. O poco nuvoloso. Per la presidia di Foschia. Il caldo affoso. 20 a regime di brezza sulla costa. Ha possibile qualche. Annuvolamento in più sui monti. Può essere probabile però. Una possibilità di qualche locale rovescio. Temporale sui monti. Le temperature saranno massime. 30-33 gradi in pianura. 20-30 gradi sulla costa. La tendenza per uno di 28 agosto. Inizia la prossima settimana. Il cielo sarà poco nuvoloso. Caldo. Eventi a regime di brezza. Da pomeriggio sera. Qualche locale temporale in montagna. E in serata borino sulla costa. Le temperature massime saranno. Tra 31-34 gradi in pianura. E in costa. Da 29-32 gradi. Bene. Questo è tutto. Da Adora VG Nord-Est. Erde ad uno. Estab Radio. Finisce qui. Il Tg. Regionale. Del Friune da Giulia. Di Adora VG Nord-Est. Marco. Vi saluta. Vi augura. Una buon proseguimento della giornata. E buon. Fra poco. Fine settimana. A tutti voi. Ascoltatori. E bene. Da Udine. Di Adora VG Nord-Est. E tutto. Ciao. E a domani. Mandi mandi. E ciao a tutti. Grazie. Hau. 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 Grazie.